sapete cos'è questa questa è un'idea un'idea che ha avuto utilità uno dei principali fornitori di energia e gas presenti sul mercato libero dal 2000 da sempre utilità aiuta le piccole medie grandi imprese a contenere e razionalizzare i propri costi energetici con offerte su misura e servizi di efficienza energetica a salvaguardia anche dell'ambiente e questa è un'idea davvero illuminante un'offerta unica nel suo genere in grado soprattutto di soddisfare le esigenze di trasparenza flessibilità e convenienza di aziende di piccola e media grandezza come la tua questa è tutti per uno per un'azienda come questa gestire il proprio consumo di energia elettrica in modo efficiente e trasparente è fondamentale tutti per uno è la soluzione ideale per aziende che come questa hanno sicuramente una spesa di energia elettrica superiore a 500 euro al mese ma perché dico questo perché tutti per uno è l'unica offerta in grado di garantire alle piccole e medie imprese massima trasparenza sui prezzi variabili e fissi definiti giornalmente nei mercati all'ingrosso così potrei avere finalmente un contratto costantemente aderente agli scenari energetici del mercato inoltre pagherai prezzi che sono perfettamente calibrati sui consumi della tua azienda in questo modo la trasparenza è massima tutti per uno prevede inoltre la possibilità di bloccare in ogni momento il prezzo dell'energia per 3, 6 o 12 mesi in questo modo non dovrai subire passivamente i cambiamenti repentini del mercato poi una volta che avrai terminato il periodo di applicazione del prezzo fisso prescelto potrai decidere di ribloccare il prezzo o di tornare al prezzo variabile iniziale del mercato all'ingrosso in pratica con tutti per uno potrai sfruttare i ribassi del mercato e fermarle tempestivamente i rialzi e tutto ciò senza sostenere costi aggiuntivi e dover fermare nuovi contratti un'offerta del genere è veramente trasparente, flessibile e conveniente convenienza sì perché il prezzo tutti per uno diminuisce nel tempo e questo grazie a un doppio sconto il primo cresce all'aumentare della quantità di energia elettrica consumata nel tempo da una singola azienda il secondo invece viene assegnato al raggiungimento di un determinato consumo di energia elettrica generato da tutte le aziende che aderiranno all'offerta quindi lo sconto non è limitato al singolo anno di fornitura ma cresce nel tempo e premiando non solo la fedeltà del cliente o la capacità delle aziende di fare squadra ma permettendo anche ad aziende di piccola dimensione di ottenere prezzi per l'energia elettrica oggi accessibili solo ad aziende più grandi una gran bella idea di convenienza, vero? Utilità inoltre grazie alla sua consolidata esperienza nei mercati energetici ti accompagnerà durante il periodo della tua fornitura un messaggio di alert per esempio ti avviserà in caso di variazioni significative di prezzo semplici grafici online ti mostreranno costantemente l'andamento dei prezzi del mercato all'ingrosso e potrai inoltre usufruire giorno per giorno a costo zero di una consulenza telefonica direttamente con gli specialisti di utilità un'idea illuminante, vero? quindi Tutti per uno è la soluzione di utilità ideale per gestire al meglio e nel modo più conveniente l'energia della tua azienda utilità l'energia che serve alle imprese per maggiori informazioni telefona al numero verde 800-94-3939 oppure visita il sito utilità.com Tutti per una